Il fenomeno del randagismo a Giarre è ormai uno dei problemi che affligge da tempo il Comune, un tema particolarmente delicato per il quale la quarta commissione consigliere preseduta da Giussi Savoca ha inteso avviare un approfondimento. Nella seduta odierna è stato infatti invitato il comandante della polizia locale Maurizio Cannavo al quale è stato rappresentato un quadro allarmante a cominciare dai numerosi cani randagi segnalati nei pressi dell'ex pastificio di via Manzoni, la stessa zona dove peraltro nei giorni scorsi si è verificato anche l'avvenenamento di un meticcio ma anche altre zone della città come via Trieste nel quartiere Iungo e nelle frazioni di Altarello e San Giovanni in Montebello. In sede di commissione è stato comunque ribadito che il problema non riguarda soltanto l'abbandono di cuccioli ma vi è soprattutto anche un problema di sicurezza per le persone a piedi, per chi si ritrova alla guida dei mezzi a due ruote e per quelli che portano a spasso il proprio cane. La polizia locale giarese si ritrova a gestire intanto una situazione complicata consapevole anche della difficoltà di attivare il canile convenzionato con lente comunale che vanta un credito ormai cristallizzato di oltre 100.000 euro. A tal proposito la quarta commissione ha invitato l'amministrazione comunale a saldare i progressi debiti. Oltretutto si è anche appreso che il canile convenzionato è anche saturo di cani, da qui dunque la necessità di organizzare più presto un confronto con i responsabili del canile nell'interesse dei cittadini e degli stessi cani. Avviata anche una discussione preliminare per individuare nel territorio comunale gerrese un cimitero per animali tema che sarà comunque oggetto in futuro di ulteriori approfondimenti.